Entrambe sono uscite sconfitte all'esordio e dopo due settimane c'è la voglia di rifarsi e portare a casa i primi punti in serie a due elite. Benvenuti a Palapanzini e buon divertimento da Gianluca Valente. C'è con il numero 70 Francesco Dentini, tentativo subito di Jander, si rifugia in calcio d'angolo Montalti. Menini triangola con Silon, la palla attraversa tutto lo specchio della porta e termina a fondo campo. C'è Barregno che adesso recupera il pallone Barregno addosso alla notte, che pericolo per il defender Giovinazzo di Benedetto. Alla meglio quest'ultimo è ripartito Torri di Benedetto dalla distanza, il pallone deviato da Montalti in calcio d'angolo. Attenzione, tentativo di Montelli, Montalti che poi con un braccio va a mettere in difficoltà il portiere del Futsal Cesena. Fisco dell'arbitro Dentini, il velo, il tiro e la rete passa in vantaggio il Futsal Cesena con il gol di Cristian Gardelli. Seconda rete stagionale per Cristian Gardelli, tentativo e l'immediato pari di Silon Junior. 1-1 defender Giovinazzo, in gol, il bomber, in baglia numero 14. Centralmente per Alasutari, Dentini a spazio, ancora Alasutari, Dentini, palla alta. Contro piede Giovinazzo, 3 contro 1, Palumbo, palla in mezzo, Pinetti, di Benedetto, di Benedetto, miracoloso, Montalti, ma fioccano le polemiche da una parte e dall'altra. recupera la palla, Silon su Barregno, Silon! Gardelli si gira, lascia sul posto, Gardelli! Ottima la chiusura di La Notte! Cade il 5, bianco-verde, tutto regolare. La palla verso Gardelli! Che sfiora il vantaggio, palla alta. Dentini mette giù il pallone, vince il contrasto. Dentini, Dentini, ancora Dentini, palla in mezzo per Alasutari, che si divora letteralmente il gol del possibile, 2-1. Per la retroguardia giovinazzese, Silon, ha spazio, Silon, Montelli! Vincenzo Montelli! 2-1 defender Giovinazzo, a 1 minuto e 25 secondi dalla fine del match. Montelli esulta sotto la curva nord. Barregno ha spazio, sale palo al piede, sul secondo palo, fa buona guarda Menini, che poi mette dentro! Mette dentro a Porta Sguarnita! La rete del 3-1! Sorridente Gustavo Menini! Si fa tutta la banda destra, si fa tutto il giro del campo per festeggiare la rete del 3-1 giovinazzese. C'è la resa da parte di un ottimo Fuzz al Cesena, che rende onore alla vittoria del defender Giovinazzo, che si impone per 3 reti ad 1, conquistando la prima storica vittoria in Serie A2 Elite.